allora sono qua in solidox ho messo la normativa di 472 resiger interni e a questo punto come faccio vado qui 472 ok ho cliccato lì sulla mia libreria clicco qui di 472 vado a tengo premuto il tasto sinistro lo porto qua rimanga dritto ok e uso dm 30 naturalmente devo prendere non devo prendere questo ma devo prendere questo qua perché sennò mi sbaglia se prendo questo devo prendere quello interno quello che a 30 clicco qui e mi ha creato in pratica la sede dell'anello naturalmente adesso clicco qui diversamente da quello da quello tipico delle tool box quello mi fa se non mi ricordo male mi fa anche raccordini però va bene quello non quando devo mettere tra l'altro non mi servono quando faccio la messa in tavola dunque vanno più che bene questi qua va bene spero di essere stato utile ci vediamo la prossima rivederci grazie a tutti grazie a tutti